Sam, è sempre bello essere sul podio, ma oggi è meglio per te, e molto speciale, no? Non diria molto speciale, ma più un rilievo. Ho avuto l'auto per farlo l'esterno e ovviamente non è successo. Quindi è bello di dare qualcosa all'esterno alla squadra di oggi. Grazie a tutti i squadroni, che riempirà l'auto completamente. E hai detto che, a rispetto al accidente di l'esterno, ti piace il circuito di Roma. Mi piace questo circuito, sì, è bello. Ho avuto l'esterno qui prima, ho avuto molti podiums qui, quindi sì, mi piace molto questo circuito. Stavamo combattere un problema tutto il giorno oggi. E pensiamo che questo rende il nostro giorno molto difficile. Quindi sono molto felice con la forma che abbiamo potuto gestire il problema con il nuovo carro. E arriviamo con alcuni punti di buoni. E ora le riempie di casa per te e per la squadra, cosa aspettate? Con la mia season, non lo so che vi aspettate. Ma spero di avere alcuni punti di buoni. E se potete riempire con la squadra e se potete bene, non lo so. Grazie. 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 Grazie.